Non c'è un scenario, oggi raga, dobbiamo fare delle missioni, ovviamente Spider-Man E qui raga, dobbiamo raccogliere queste nuvolette, che prima non sapevo come si facevano E quindi, quindi raga, adesso le faccio vedere in un video perché ho capito Allora, dobbiamo fare così No, aspettate Prima, ok, ecco raga, ok, si è fatto così Ecco, adesso raga, dobbiamo raccogliere un'altra Che raga, sono un poco difficili da prendere 5 su 8 dobbiamo prendere Ho fatto 3 di prova perché non sapevo come si facevano E quindi ho capito come si fa, basta che volate sopra quella cosa E poi, e poi quando voglio, quella cosa te la dà Beh, si fa così, come sto facendo Eh, però, Spidey Raga, io ho preso il costume Noir Quello là che c'è, dovevamo avere tutti, credo Ok, non lo aspettate Ecco, fatto Adesso raga, un altro Adesso andiamo su questo Ok, fatto Adesso raga, andiamo su quello Ok 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 Dovemmo raga, do... Ok Ok, qua c'erano una parte delle macchine Dovemmo fotografare, credo Aspettate Scatta Oddio Ok, raga Togliamo la... Disattiva la fotocamera Andiamo a squilla Io a squilla Ok Raga, intanto vi lo volevo parlare su... Su PlanetSide 2 Praticamente ho scaricato questo gioco PlanetSide Ho detto scariciamocelo ed è bellissimo Ok No, ho scattato la fotocamera Raga, dove dovevo andare Guarda la... Guarda la... Allo smoke Boh Ebbè, andiamo la raga Vediamo cosa ci succede Oddio Oddio Allora, devo qui... No Aspettate Aspettate Finanziare Finanziare Ok Andiamo la raga su... Ci sarò chiamando Sentiò Sentiò Che è successo? E quindi... D'accordo Vedrò di ottenere Qualche informazione Direttamente da Shocker Oddio Oddio raga Quindi Dovemmo... Quindi dovemmo andare Nel punto Quella che ci hanno dato Quindi Io rimontavo Ci ha chiamato E ok Quindi raga Adesso andiamo a fare la missione E straga Quando faremo le missioni Pian piano Siamo fino alla fine Vicino alla fine Allora raga Ci stanno chiamando Sentiamo Ok Raga Allora Andiamo qua Nostro punto Allora Venga Quindi Io faccio questa missione E chiudo il video Poi ne Faccio un altro Dopo E Se non ci sarebbe troppo lungo Il video Oddio raga Intanto Qua Shocker Oddio raga Che sto uccidendo Questa missione è troppo Con quale standard Si calcola la corretta quantità Di parole Ecco Tieni Pum Pum Shocker Vai Che lo fai Oddio Oddio No raga Guardate Shocker No raga Siamo morti Cioè Cioè raga Shocker Da Dei Due colpi Mamma mia Siamo morti Ma Ma Raga Ecco Tieni Dove stai Shocker Uuu No No Oddio Raga Raga No Shocker Ma Pum 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 D Iii Micica C'è Minci No Vabbè Raga No Vabbè Vabbè No 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 Oh Cacchia Merda Pum Shocker Oddio No Dai Shocker No Vabbè Raga Shocker Impossibile Da battere Da Raga Voglio Giocare Non ci credo 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 Vabbè Raga Tieni Tieni Shocker No Vabbè Oddio Dai Herman 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 Dai Dai Shocker Per chi Spettare Questo Dai No Vabbè Reggio Non mi aspettavo Questo Da Herman Tieni Allora Allora Tu Lo vuoi fare Veramente Oddio Dai Herman No Tieni Tieni Oddio Raga Ce l'abbiamo fatta Raga Ce l'abbiamo fatta No No Io no Io non ho Shocker Tieni Shocker Shocker Ti devo dire Cosa No No Oddio 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 No Raga E' uno scontro Bellissimo Shocker Spide Dane Tieni Dai Shocker Perché No Shocker Troppo Tieni No Shocker 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 Se deve mettere In prigione Shocker Ma perché Perché Shocker Adesso Fa così Raga No Ok Dio Raga Shocker 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 Allora Shocker Tu non è una persona così cattiva Ma Io Ti devo ammazzare Shocker Ti dovrò Mi preoccupi Herman Non è da te avere paura di qualcuno Oh Oddio Hai detto maschio No Raga Ha detto maschio I Dai No 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 Io rischio i colpi Raga Dai Dai Shocker Ti ho confessa Oddio Oddio Toi Di Dalle Palle Shocker Oddio No Raga Ma non è possibile Shocker Cioè Non è possibile Nel senso che Shocker è impossibile Se mi dirai perfino a voi Ti farò avere uno sconto di pena Se mai non sono morto Sono stati molto chiaro Eh Sei morto Sì Guarda che sta combinato Combinando Tieni Shocker Determinato Ritartario Ecco Mi prego Herman Guardate avere paura di qualcuno Oddio 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 Lega Vieni Tieni Oddio 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 Tieni Shocker Di cacca Sì Shocker Shocker Pecca Stipugni Pecca No Oddio Ok Ok Raga Ce l'abbiamo fatta Contro Shocker Ce l'abbiamo fatta Forse Forse Oddio Oddio Zina Ragniatela Vai Spider No raga E' impossibile Stavolta No raga E' impossibile No Raga E' impossibile Oddio 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 Vai Vai No 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 raga No Non è possibile No raga Ma come facciamo Ma come facciamo Contro Shocker No raga E' impossibile Contro Shocker Raga Shocker Imbattibile Sì No vabbè Andate Dì 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 No Non è il Sì E' l'ultima Vai Scusa Erman No Oddio Raga Cosa è stata Sta missione Ok raga E abbiamo completato questa missione Spero che raga il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Un bel pollice Bella raga